benvenuti in questo piccolissimo video e vado a parlare del film che dovrà uscire il 20 luglio con Ryan Gosling e Margot Rabbit che vanno a portare nella action un cartone che ormai ha fatto la storia del cinema sia italiano che internazionale e in questo video vi vado a parlare di Barbie, diciamo che Barbie non è che sono fan di questo cartone però dal trailer mi è sembrato un film che promette bene, promette bene secondo me perché ormai nell'epoca di oggi si può fare, si può adattare qualsiasi cartone, qualsiasi live action su una qualsiasi pellicola abbiamo visto come hanno fatto l'adattamento su Capelleri dello Zodio che è uscito il film recentemente su Indiana Jones, su Transformers, vabbè naturalmente i film Marvel ma Barbie ragazzi è un film che diciamo ai nostri giorni è possibile mentre un paio di anni fa era impossibile mi ripeto è un film che sinceramente non ho tante aspettative perché non sono fan di Barbie però devo dire che il trailer non mi ha... cioè ho voglia di andarlo a vedere per vedere come Margot Rabbit che abbiamo conosciuto che abbiamo conosciuto nei panni di Zodio Squad ma anche nei panni di Beast of Red di tantissimi recentemente in Babylon come si vada ad interfacciare con questo personaggio che è amato più da un pubblico femminile che da un pubblico maschile devo dire che il film di Barbie, anche Ryan Gosling sembra veramente fa Ken, sarebbe il fidanzato di Barbie sempre in parte ma anche il trailer diciamo non mi è dispiaciuto perché ti fa vedere che ti portano in questo mondo di Barbie dove esiste però diciamo in un mondo parallelo e la nostra Margot Rabbit dovrà portare il personaggio nel mondo attuale diciamo che, ripeto, non è un film fra me che aspetto di più però devo dire che il trailer non mi è dispiaciuto e devo dire che sono molto curioso di andarlo a vedere perché è un film che sinceramente... è un adattamento che sono curioso di andarlo a vedere su grande schermo uscirà, vi ricordo, il 20 luglio in Italia non so se riuscirò a vedere il 20 luglio perché nei giorni dopo ho molte cose da fare però cercherò come sempre di portarvi la recensione appena posso sono andato a vedere praticamente Indiana Jones un film che mi è piaciuto anche se rispetto agli altri film devo dire che la trilogia da iniziare è quella importante mentre il penultimo film è l'ultimo non è che a me abbiano fatto entusiasmare mentre invece altri film li ho visti e trovate la recensione qui sul mio canale ormai ragazzi sono arrivati a 2.000 iscritti e guarda cosa mi tocca fare fare una reaction al trailer di Barbie e sulle aspettative su questo film che uscirà il 20 luglio qui in Italia sono curioso, penso che molti di voi andate a vedere perché lo so che Barbie è un pubblico più femminile è più che maschile quindi sono convinto che a Bottegrini sono i Barbie e la carta vincente di Warner quindi dobbiamo solo attendere il 20 luglio noi ci vediamo in prossimo video siete sempre la mia forza e io vi voglio veramente bene 3.000 grazie sempre per il grande affetto ciao ragazzi grazie a tutti